Signore e signori buongiorno, dichiaro aperto il secondo convegno del gruppo Bimbi, Sani e Veghi è una giornata che sarà lunga, per cui vi ringrazio intanto di essere arrivati e poi vi invito a seguire quanto più possibile questi lavori che sono una scadenza annuale ormai diventata e vi invito a seguirli perché abbiamo un relatore di eccellenza Bimbi, Sani e Veghi è un gruppo fondato da Carla Tomasini più di un anno fa che in circa un anno ha collezionato più di 3.000 iscritti per lo più genitori di bambini o vegetariani che vogliono diventare vegani o anche onnivoli che vorrebbero poi passare perché sta succedendo che sempre più persone siano sensibili e si siano sensibilizzati a queste nuove istanze perché essere vegani oggi comunque continua a significare e rappresentare una minoranza, una minoranza che cresce naturalmente ma che è ancora una minoranza cosa vuol dire essere vegani? essere vegani vuol dire compiere una scelta vuol dire scegliere di mangiare una cosa anziché un'altra e questa scelta fa la differenza tra la vita e la morte di creature che noi sentiamo come creature sorelle quindi gli animali sono, crediamo, nostri fratelli e la scelta alimentare ma anche nel vestiano naturalmente è fondamentale perché se scelgo di mangiare animali scelgo anche di perpetrare una scuola di uccisione che è diventata industriale che non ha più niente a che fare con le vecchie uccisioni degli animali utilizzati per ragioni alimentari come si facevano nelle nostre fattorie io vengo dalle marche come si faceva nelle case di campagna delle marche quindi è diventata un'industria spersonalizzata che intanto alimenta un consumo smisurato di carni e poi è fatta in maniera tale che noi troviamo nei supermercati una merce ovviamente già pulita che non evoca più, a meno che uno non si sforzi di pensare neanche lontanamente la macellazione di questi animali l'uccisione industrializzata di questi animali scegliendo di non mangiare animali personalmente ne salviamo nel corso della nostra vita circa 1400 queste stime sono basate ovviamente su larghe medie mondiali quindi scegliendo di non mangiare gli animali con solo vegetarianismo quindi noi risparmiamo la vita a ciascuno di noi risparmia la vita a 1400 animali in media quindi questa è la scelta del veganismo naturalmente scegliere di non mangiare animali implica all'interno di una società che invece è stata abituata per lo più a mangiarne e mangiarne anche copiosamente perché dal dopoguerra oggi questo è successo gli animali non solo si mangiano ma se ne mangia una quantità esagerata e di questo siamo avvertiti poi dai medici e compiere questa scelta significa naturalmente poi calibrare molto bene l'alimentazione questa è la ragione per cui oggi ci saranno due nutrizionisti e un grandissimo pediatra in Italia che adotta per i propri pazienti una dieta vegana quindi questo mi auguro che possa comportare le persone che dovessero avere dei dubbi comportarle perché ovviamente nessun medico è così superficiale o così matto tra virgolette da prescrivere una cosa che faccia male ai propri pazienti quindi abbiamo ci sono pochi pediatri in Italia che raccomandano questa dieta oggi abbiamo uno dei principali come vedremo il dottor Pinelli questa scelta significa da parte di ciascuno di noi ampliare la propria prospettiva noi vediamo tutti bene gli animali anche chi mangia gli animali ha i cani e i gatti perché considera i cani e i gatti vogliamo chiamarli degli animali di serie A e considera invece i vitellini, i capreti, gli annelli, gli agnelli i pollatti li considera animali di serie B cioè tradizionalmente utilizzati per l'alimentazione quindi compiere una scelta significa anche sforzarsi insomma persuadersi del fatto che gli animali poi sono tutti uguali stiamo parlando di animali che qui sono raffigurati a parte i polli sono tutti animali mammiferi quindi sono nostri cugini di primo grado le cure materne che i mammiferi dedicano ai propri piccoli sono come quelle che noi dedichiamo ai nostri piccoli quindi questo è un invito allarghiamo la prospettiva per compiere questa scelta questo convegno è stato organizzato con l'associazione antispecista Verona Vegana della quale vi proietto il sito senza questa organizzazione avremmo fatto abbiamo veramente combinato pochissimi ci sono poi due sponsor questo è uno sponsor locale che si chiama Antico Molino Rosso del quale potete osservare un pannello e qui una rappresentanza di farine che loro producono in un mulino io ho visto i filmati in un mulino molto bello qui vicino a Verona mi dicono che qui a Verona questa è una vita molto conosciuta una vita di riferimento diciamo e quindi io intanto prego Gaetano di sollevarsi e poi prego di salutarvi con un applauso perché anche grazie a lui che siamo tutti qui a fare lo stesso vale per la famiglia Luzzi vorrei che anche voi vi metteste in piedi perché vogliamo salutarvi con un applauso è un produttore di pregio delle marche non nuovo perché anche l'anno scorso ci ha aiutato per fare questo convegno li ringrazio ancora una volta sono degli esperti coltivatori poi macinatori di farro e lavoratori perché preparano poi dei farri precotti conditi che sono dei monoporzioni per lo più e anche loro adesso poi ci faranno vedere una rappresentanza dei loro prodotti se volete cominciare a scaricare se avete bisogno vi diamo una mano il terzo sponsor è l'editore Sonda del quale vedete molti libri penso troppi ce ne abbiamo andato che vendiamo con uno sconto del 10% facciamo uno sconto convegno ci sono non tutti i suoi libri però è l'unico il primo è l'unico editore che ha una linea vegana e ha fatto dei libri bellissimi ne vedrete diversi riparleremo di questi libri anche perché molti dei relatori di oggi sono anche autori di alcuni di questi libri qui vedete i libri di Annalisa Malerba che parlerà nel pomeriggio questo è un classico la cucina etica per mamma e bambino questo è un classico proprio per chi ha figli e ne vedrete tanti relativi sia all'alimentazione che alle istanze etiche alle istanze morali legate all'animalismo quindi grazie anche a Sonda questi sono i libri che ci ha spedito vedete il prezzo al quale c'è da aggiungere lo sconto qui ho rappresentato con queste macchie rosse i libri di autori che parleranno oggi chi fosse interessato si rivolga ad Annalisa De Pasquale in fondo per acquistarli quando vuole durante il convegno manca in quell'elenco questo libro bellissimo di Annalisa Malerba la prima relatrice di oggi pomeriggio che illustra delle ricette sfiziose fatte con erbe spontanee quindi è anche un invito al recupero di ingredienti ormai desueti che una volta quantomeno nel mondo contadino tutti utilizzavano per cui vi invito a osservarlo se poi vi piace ad acquistarlo questo è il nostro programma la maggior parte di voi presumo siano iscritti al nostro sito quindi lo conoscono il primo relatore di oggi è Giorgio Fabro che è un nutrizionista un vegan coach un life coach esperto in alimentazione vegetariana e vegana per sportivi e non quindi per esempio per sedentari gestanti adolescenti adulti è un conferenziere e consulente nutrizionale presso te quindi tiene conferenze per il suo padre estere di cose del genere ha una laurea in biologia una laurea specialistica in biologia molecolare e un master in alimentazione e dietetica vegetariana è il nostro primo relatore salutiamo un applauso ringraziamolo due volte perché è in fase di convalescenza quindi ci ha dato una mano anche con lo sforzo di venire ci parlerà di bimbi vegani e attività sportive grazie Giorgio buongiorno come state? allora colgo anche l'occasione per ringraziare Enrico che gentilmente mi ha invitato la fortuna anche di giocare in casa insomma per evitare circa 30 km da qua mi ha anche un po' agevolato negli spostamenti dicevo infatti che sono in convalescenza non è il mio semplice l'altra d'ora ma mi è successo un piccolo fatto che condivido con voi insomma anche perché considero questo gruppo una grande famiglia dopo tanti mi conoscono hanno anche la mia amicizia nel mio profilo privato sono affetto quando sono nato dalla malattia genetica che mi ha creato dei problemini verso l'aprile a livello di funzionalità epatica e quindi sono stato trapiantato il 5 agosto qua a Borgo Trento quindi si è fegato quindi è che ci tenevo ad essere qua e ho detto faccio il possibile infatti gentilmente mi hanno anche permesso di parlare come primo relatore della giornata insomma oggi è una giornata buona quindi siamo qua e cercherò di condividere quella massima lucidità quello che ho realizzato negli scorsi giorni insomma ecco tutto lì avete visto comunque anche la mia presentazione quello che faccio chi sono ho un paio di studi nella bassa veronese a Casa Leone e poi lavoro anche per una struttura a Colonia Veneta che è un paesino insomma un po' più vicino qua al centro della città è borderline tra Verona e Vicenza è un po' riempulatorio dopo anche gli faccio consulenza o un demand oltre a varie strutture insomma dove mi chiamano anch'io condivido con Enrico l'alimentazione vegan ormai sono quasi due anni io mi sono avvicinato a vegan per un discorso prima salutistico e poi diciamo così quasi in contemporanea però successivamente anche per un fattore etico perché quando iniziare a vedere determinati video a renderti conto insomma e cercare anche di tirar fuori la famosa testa della sabbia perché il sistema ci impone spesso e volentieri anche per un interesse loro e non nostro di mettere la testa appunto sotto la terra ti rendi conto insomma ecco che hai mangiato ti sei comportato per tanti anni in una determinata maniera o in una determinata maniera che però può essere anche modificata tranquillamente allora ovvio che io sono un tipo molto curioso di natura ho deciso appunto anche di fare il master per avere il massimo delle informazioni poi tutti quanti i vari libri abbiamo la fortuna anche in Italia grazie al sonda di dare dei testi spettacolari l'Italia sia scientifico ma anche un taglio comunque più easy che chiunque può leggere e informarsi quindi dico sempre se avete delle necessità compiti come queste sono ideale perché avrete tantissime informazioni che cercherò di condividere anche con voi oppure dei filiati comunque in privato anche nutrizionista però una somma ancora avete visto lo vedrete durante la giornata ricca anche di esponenti di questo tipo che condividono la vostra filosofia di vita oppure anche affidarsi a dei testi che siano comunque testi scritti da persone competenti quindi avete tre possibilità l'importante lo dico sempre sia per voi per il vostro corpo ma anche per i vostri figli o le persone che amate ma è fare le cose a casa è un invito che io giro sempre anche tra virgolette univore di carnivore tutti quanti quando uno decide di chiamare non solo a qualche chiedo in più piuttosto che chiamare qualche pratoggio eccetera di affrontare un percorso di cambi di stile di vita farsi sempre seguire ovunque avere le giuste informazioni e la rete ripeto se non volete fidarvi ad un ad una persona insomma che vi aiuta un cuocio come sottoscritto potete trovare tante informazioni ma mai fare le cose a caso vedete il titolo dell'evento ai bimbi sani e leghi io sono un po' un giocarellone lo vedrete perché cerco molto un'interazione anche col pubblico almeno ci teniamo fatica a vicenda giusto? perché dico anche dopo i 20 minuti la concentrazione va un po' a sparire quindi dobbiamo cercare di stimolarci a vicenda allora bimbi sani e leghi iniziamo dalla prima parte del titolo e lo definiamo da bimbi sani siamo proprio sicuri questo è un discorso a 360 gradi vedremo di affrontare comunque un aspetto legato ai bambini e poi la seconda parte della presentazione andrà a toccare anche gli adolescenti e anche gli adulti perché comunque anche noi grandi abbiamo bisogno di informazioni quindi se avete qualche dubbio spero di poter sommarco darvi anche delle soluzioni che siano pratiche perché il bello di questi convegni infatti ne parlavo anche con Enrico via il messaggio è riuscire a darvi delle informazioni che poi voi vi portate a casa non deve essere soltanto una partecipazione passiva io credo sono ecco in questo allora vediamo un focus un po' a livello italiano purtroppo quando parliamo anche di sport parliamo anche di bambini c'è una realtà anche a livello italiano che spesso uno pensa che sia soltanto oltreoceano o magari che sia arrivato soltanto in l'Italia invece purtroppo noi in Italia anche ci distinguiamo a livello europeo la problematica dell'obesità che per me è veramente insomma ecco una grande patologia molto presente anche attorno a noi è veramente insomma ecco da studiare da analizzare e non da sottovalutare come spesso accade ok questo lo dico perché vedo qualche genitori anche nel mio studio e spesso mi importano anche i loro bambini che comunque hanno una giovane età che hanno già dei problemi di peso problemi di colesterolo problemi di trigliceridi e sinceramente quando vedo determinate analisi a meno che non ci sia una patologia quindi non è colpa dell'interessato dico sempre c'è qualcosa che forse non quadra c'è qualche informazione che non è corretta forse magari la televisione che viene vista come il guru giusto che dà informazioni forse non dà le informazioni corrette forse il genitore magari deve essere un po' più informato chi lo sa io cerco il mio piccolo a dare degli stimoli a dare delle informazioni lo vedete qua l'obesità infantile è uno dei principali problemi di salute pubblica come dicevo ed è causato la maggior parte da uno stile di vita che non è corretto quindi mancanza di informazioni però è una condizione ampiamente prevenibile non è che se uno ha un problema basta è spacciato assolutamente no noi siamo qua anche per aiutare convini come questo che le informazioni possono veramente anche far cambiare stile di vita qualcuno potrà domani essere arrivato qua con un afformamenti se andare via con un clip diverso a dare stile di vita da domani questo è anche il nostro obiettivo insomma quello che è successo anche in altri congressi a cui ho partecipato vediamo anche la situazione in Italia con l'armante oltre un milione di bambini in 3, 6, 11 anni problemi di visita a sovrappeso sono tanti a parere mio non so se condividete sono su numeri veramente pesanti dopo vedremo anche delle piccole statistiche in percentuale per farvi rendere conto anche del problema più di un bambino su tre quindi quando noi andiamo a scuola vediamo tre bambini uno su tre statisticamente ha un problema di sovrappeso obesita tantissimo perché questo? è la sinergia di due effetti negativi un'alimentazione scorretta spesso dipercalorica troppi zuccheri troppi grassi soprattutto anche saturi e poi causa un ridotto di spengo energetico a causa dell'inattività fisica non si vedono più come magari 20 anni 30 anni fa bambini in bicicletta che giocano fuori e tutto il resto ma spesso anche è un discorso logistico può capitare però anche l'opera dei genitori perché poveri insomma lavoriamo oltre 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 giorno quindi difficile anche gestire diversamente da quello che è l'appartamento vengono indirettamente messi lì davanti alla televisione davanti alla playstation o altre console e purtroppo vanno incamerare informazioni non corrette della televisione e una stasi continua quindi non un dispendio energetico quindi se per errore mangiano un po' di più ma i la mia vendina in più lo stuzzicchino in più il carboidrato in più un po' troppo basta tutto il resto quello che sapete insomma credo di parlare di cose che vi rendete conto che buono in quotidiano si va ad accumulare il corpo biologicamente è portato a non musare via niente nel senso che tutte le energie che mandiamo in camerare anche dal punto di vista biologico viene tenuta bene trasformata perché? perché negli scorsi secoli c'erano delle problematiche legate alle guerre alle carestie quindi l'uomo si trova un giorno a mangiare e male due giorni a biologicamente quindi il corpo tende a trattenere qual è il problema adesso? che abbiamo il frigo abbiamo le dispense giusto ogni giorno c'è e anche in eccedenza e quindi uno se esagere se non è ben controllato e sono un golosone io sono un golosone lo ammetto e rischia di incamorare calorie e di zuccheri si trasformano in acidi grassi e il grasso di deposito sapete dove va e cambia le forme diventiamo un po' più rotondini meno aerodinamici dico rispetto a quello che dovrebbe essere quindi bisogna appunto fare molta attenzione vedete in rosso una cosa che io sottolineo sempre non voglio fare colpabilizzare nessuno è giusto dire che se il genitore ha delle informazioni che siano corrette il bambino non ha informazioni ignora le informazioni è una spugna quindi voi potete veramente cambiare il destino di vostri figli né bene né male insomma questi sono dati del 2012 sono abbastanza aggiornati è un sondaggio fatto appunto da Occhio alla Salute che è promosso dal Ministero della Salute e vedete appunto qua i dati a livello italiano un 22% in circa dei bambini fra gli 8-9 anni in sovrappeso è tanto quel famoso 1 su 3 quello che dicevamo prima qua lo vedete più concretizzato anche i numeri che secondo me colpiscono molto 10% in circa in condizioni di obbiasità è tanto 8-9 anni secondo me ha tutta una vita c'è ricannita davanti quindi anche il rischio di peggiorare di incorrere dopo anche in patologie cardiovascolari terosclerotiche diabete insomma le malattie moderne le malattie che abbiamo il progresso giusto abbiamo tutto c'è tanta ricchezza abbiamo tanto da mangiare però da qualche decennio a questa parte ci sono sviluppate queste malattie e sembra un po' strano giusto forse si stava meglio quando si stava peggio qua abbiamo anche varie generazioni che magari possono confermare era meglio forse ma era quando c'era qualcosetta in meno ma anche a tavola o magari un po' più di qualità percentuali più elevati di sovrappeso visitarsi riscontrano nelle regioni del centro-sud si chiamano una cucina molto più ricca di quella nostra 9% dei bambini salte la prima colazione questo è un altro problema quando si svegliano un borderline all'inizio della scuola sono di corsa il genitore di corsa è proprio una vita di corsa continuiamo corte e arrivano a scuola che non hanno mangiato quindi anche il rendimento dopo che lo posso assicurare è totalmente diverso il 31% ma che fa una colazione non adeguata troppo sbilanciato con i nutrienti dovrebbe essere un po' più bilanciato sia a livello di carboidrati di proteine di grassi perché il bambino ha bisogno di tutto e bisogna anche di energia parole giuste e energia e questo è importante capirlo il 67% che magari non hanno fatto colazione si trova a metà mattina con una verona fame da paura da lupo e quindi fa una merenda troppo abbondante e come una merenda sicuramente non è una mela non è una merenda di frutta qualcosa di comodo non ti parlate qualcosa per esempio anche la macchinetta che ha pubblicato anche delle scuole che hanno delle classiche macchinette e mi ha detto i soldi o la chiavetina e esce di tutto di più e non è che sia il massimo sommacco della nutrizione è quello che il distributore fornisce alla scuola è quello che mancano gli adulti il 21% dei genitori da questo sondaggio ha dichiarato che i propri figli non consumano quotidianamente frutta e verdura la domanda perché io sono un po' bierichino ma il genitore la consuma bisogna anche chiederlo ho il 43% consuma abitualmente davanti a zuccherate grassate io aggiungo anche energetiche non so perché ma quando ero piccolino io non c'era tutto questo bisogno di energie adesso invece se proprio ora possa consumare questa tipologia di limite forse per moda o forse anche per pubblicità ecco il problema dall'altra parte quindi abbiamo un'alimentazione hipercalorica che non è compensata da quello che io chiamo bruciare le calorie far funzionare la nostra calda all'interno il 16% di bambini pratica sport soltanto per un'ora a settimana o anche meno vi dico sempre stare davanti anche alla console quel videogioco muovendolo si alleni bene le dita diventeranno super muscolose però non è sufficiente per bruciare calorie nonché quando facciamo le battute con i genitori in studio il 36% guarda la tv e gioca con i figli giochi per più di due ore al giorno è un dato secondo me anche sottostimato giusto? non solo della vostra esperienza ecco che comincio con i figli di scratto da adesso voglio sapere un po' un po' di più forse giusto qualche ora in più ma lo vedete ma i nipoti o anche figli direttamente bisognate cercare di ragionare un pochettino di fare un po' più vivere nella vita reale che comunque ricca di stimoli di cose belle e non lasciare appunto nel mondo che definisco virtuale l'Italia quindi come vedete da questi dati un po' alarmanti resta ai primi posti d'Europa per l'eccesso ponderare infantile quindi ci distinguiamo a livello europeo oltre che per un discorso politico anche per un discorso di obiettività infantile adesso vi faccio vedere il video pochissimo però secondo me è molto molto interessante spero che l'audio sia non troppo alto al limite vedremo un po' di gestione da grazie Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ok? Anche se in inglese però penso che il messaggio sia arrivato lo stesso, giusto? Anche senza tradurlo. Quindi spesso e volentieri una scelta magari diciamo così sbagliata, una scelta di comodo, una scelta per accontentare il nostro bambino che fa dei capricci, può condizionare anche tutta quanta la sua vita e portarlo anche in una condizione, come avete visto all'inizio, quando era sul lettino, che gli tagliavano la maglietta, lo stavano intubando insomma, ed era comunque giovane, avete visto, non aveva tanti anni, padre di famiglia con delle responsabilità, delle persone che contano su di lui, però a un certo punto il corpo non ce la fa più compensare, le nostre cattive abitudini alimentari, le sue cattive abitudini alimentari, le va in crack. Si supera quel famoso punto di non ritorno, quindi conferenze come queste a livello informativo danno anche la possibilità appunto di fare un po' di prevenzione, di evitare di elevare comunque a una condizione di questo tipo. Quindi ci tenevo su un'acqua a condividerlo con voi. Quindi in sintesi, quando parliamo di obesità, possiamo parlare anche di questi concetti, una nutrizione sana e bilanciata sicuramente si oppone a uno stato di obesità. Un'attività fisica costante aiuta tantissimo, anche io quando vedo anche pazienti, comunque non bambini, signore o signori che mi vengono, non so neanche a trovare, che vogliono perdere qualche chilo, o anche tanti chili, insomma sono chiaro fino all'inizio. E ironicamente li prendo per manina, li accompagno fuori dalla porta, infatti mi guardano un po' stremiti, gli dico sempre provo a guardare nella maestà della porta, qui non c'è scritto la grotta dei miracoli. I miracoli li fate voi, costantemente giorno dopo giorno. Se io arrivo ai 50 anni con una determinata condizione non potete pensare, in giro di una settimana, di pochi giorni, un mese, di cambiare totalmente. L'importante è avere il giusto clic e provare a fare giorno dopo giorno qualcosa in più, per se stessi e anche per la propria famiglia, perché comunque abbiamo sempre delle responsabilità. Non mollare mai, per quello è importante, ne aver ribatto proprio, mai e mai mollare. E alla fine tutti quanti possono, se vogliono, perché dipende da uno o dagli altri, arrivare comunque alla meta, all'obiettivo. Che uno sia un infante, che sia un adolescente o che sia comunque un adulto. Maggiore durata del sonno, è una cosa importantissima, vedo troppo i bambini andare a letto tardi e alla sera. Alla mattina ovviamente si devono svegliare a un orario comunque che consono all'inizio delle lezioni e sono un po' addormentati, per dirlo in maniera easy. Quindi bisognerebbe insomma anticipare un po', ma le 9 e mezza dice al massimo, concedere anche una fase comunque di ripresa e di ricarica che sia adeguata, mi raccomando. E un po' meno tempo è trascorso davanti alla tv o davanti alla console, vivetevi di più, fatevi di più vivere nella vita reale. Queste sono le variabili che possono garantire una protezione dell'obesità. Come vedete sono cose che hanno un costo pari a zero, giusto? Noi siamo qua anche per dare soluzioni, visto che c'è crisi, giusto? Sproponiamo delle cose che siano insomma abbastanza semplici da seguire. Ci ricolleghiamo un attimo il titolo dell'evento, che è bimbi sani e vecchi. Allora qua ce lo chiediamo, può essere un bambino sano e vecchi? Qui vi darò dei cenni pratici di nutrizione vecchia in età pediatrica, perché sono dei cenni? Perché ora abbiamo le fortuna per un'altra collega, anche il professor Pinelli, che è un pediatra, insomma stimatissimo anche qua a Verona, che vive nel quotidiano queste problematiche, un po' di più anche del sottoscritto. E avrà molto comunque qualcosa di entrare ancora di più in merito ad alcuni aspetti, quindi io farò una breve introduzione, dopo vi sicuramente nella sua presentazione andrò a approfondirla. Quindi avrete in modo, se magari io non sono riuscito a completare un concetto, lui lo farà sicuramente perché è bravissimo. Iniziamo appunto da informazioni che sono pratiche. Vedete che sono, adesso saranno quattro slide, abbastanza piene. Io li realizzo così perché? Perché finché parlo uno può prendere appunti, può fare una foto, può portare a casa le informazioni che io ho preso dai miei testi, dai miei siti di riferimento, e portarla a casa e utilizzarla appunto nel suo quotidiano. Perché credo che comunque fare una presentazione in cui esce, un poco per volta, quando tu arrivi alla fine, che cambi slide, è difficile comunque avere il concetto o scritto in toto. Quindi iniziamo da una cosa molto semplice, il primissimo alimento. Per un bambino, vegana, ma anche credo un incolo, giusto? È una cosa a 360 gradi, è veramente il latte materno. È il alimento più importante, ok? Dove vedete che il rallentamento al seno comporta numerosissimi benefici. In un altro parte da zero ha bisogno di tutti quanti i vari nutrienti, degli anticorpi, di tantissime sostanze che soltanto la mamma può dare. E una cosa che ho sotto il mio semplice è la specie specificità del latte. Infatti trovo anche, tra virgolette, sono un po' assurdo, stilarsi a bere latte da altri mammiferi, che è quello che comunque noi tendiamo a fare, forzando anche quello che è il nostro organismo a continuamente produrre nella tasse. Poi ovviamente cosa fa il marketing in industria? Ti toglie il lattosio, ti toglie questo, ti toglie quell'altro. Quindi non so, uno va a comprare una bevanda bianca alla fine perché non ha più nutrienti, perché non è che sia tanto comunque specie specifica. Potete farne almeno, c'è l'alternativa che sono squisite delle bevande vegetali, non le chiamo latte, ma le chiamo bevande vegetali, sia di soia, di riso, tutti quanti i vari cereali sono anche misti. Grazie a Dio, soprattutto anche negli ultimi anni, a livello comunque anche di supermercato, di grandi distribuzioni, ci sono tantissime possibilità. Comunque in debito fare è ogni giorno provare un prodotto diverso. Non focalizziamoci solo sulla soglia, solo sul riso, provate a giocareci. Ci sono anche quelli un po' aromatizzati, ma era cacao, cose di questo tipo, chiamate per un bambino che era legato a Nesquik, giusto? Noi che hanno trovato tantissimi. O di pazienti, piccoli pazienti, che si sono innamorati del latte di soia e del cioccolato. Ecco, quindi è importante dare loro le soluzioni, che sia una soluzione positiva e felice. Le formuzioni a base di soia costituiscono per le famiglie vegane l'alternativa migliore quando l'alternamento al seno non sia possibile. Deve essere comunque l'alternamento di formule, ok? Non, per un bambino, affidati dai dati di soia per l'adulto, dati di riso per l'adulto o le altre formulazioni fatte anche in casa con la macchinetta, perché non hanno i nutrienti bilanciati. Il bambino ha bisogno di fracca, ha bisogno di proteine, ha bisogno di grasse, quindi i dati di formule che si prendono in farmacia, c'è l'uno e anche il due, dopo il professor Pinelli sicuramente darà ancora di più nello specifico, permette di gestire lo spezzamento qualora la mamma non ha possibilità di adattarlo per un problema, non so, di tempo, oppure anche per un problema strutturale di produzione, insomma proprie. L'alimentazione supplementare, quindi cibo un po' più solido, sarebbe meglio inserirlo dopo la metà del primo anno, dopo i 6-7 mesi, cominciare a essere un po' più maturo, anche a livello comunque gastrointestinale, anche neurologico, è un bambino più completo, anche a livello enzimatico, quindi si può appunto aggiungere qualcosa di Tine. Un'altra cosa che consiglio sempre, lo vedete in fondo, introdurre un cibo per volta, non cuisiamo tutto quanto insieme, diamo un cibo, ma è un cereale all'inizio, dopo 2-3 giorni ne proviamo un altro, ok? Perché se c'è qualche allergia, in maniera molto easy, voi stesse potete trovare il problema, ok? Andiamo alla seconda, sempre di cenni pratici, i cereali, se volete, possono essere mescolati con le formulazioni di base, con la telegitale, vedete voi, insomma. Io direi, consiglio, se possibile, di iniziare con i cereali, quelli senza glutine, senza andare a succhino, non salta a cena maranto, utilizziamo un milio a maes e riso, perché se l'ho utilizzato tantissimo, e poi nel tempo andate a introdurre anche quelli con i glutine, tutti gli altri, quindi avena, farro e quant'altro. Direi di iniziare con un pasto di cereali, poi andando a sfumare con i mesi, potete arrivare con un paio di pasti di cereali. Dopo i 6-7 mesi, potete introdurre anche la frutta, magari veramente schiacciata, creando le purè con un po' di verdura, sempre fatte in purè, poi si va anche con i legumi, schiacciati, decorticati, perché non deve esserci da fibra, per un discorso di assorbimento. Guardiamo in fondo, cosa vi posso dire? Dall'età di 7-8 mesi, abbiamo un discorso proteico, legato appunto anche al tofu, perché può piacere anche al tofu, perché no? Anche se non è italiano, però può essere una soluzione, è a disposizione nostra, quindi la sfruttiamo. Lo yogurt di soglia, eccetera, l'importante è comunque creare delle componenti, comunque non troppo solide, che siano più cremosi, insomma, pensate in omogenizzati, ovviamente voi che ho fatto in casa è molto più in natura, quindi vi invito a fare, ed è bellissimo, lo vedete là, che mette le manine, comincia a far stocciare, vi divertite, insomma, ecco sono momenti, secondo me, veramente indimenticabili di crescita del ciclo, poi cosa vi posso dire, vediamo un pochettino, discorso del ferro, andiamo già a metà, se no io risulto di essere troppo noioso se leggiamo tutto quanto, le scorte di ferro dopo circa sei mesi cominciano un po' a diminuire, anche quelli presenti nell'alte materno, quelli di scorta, quindi è ovviamente sensato, ma questo viene proposto da qualsiasi pegliato anche per il bambino unico di andare a integrare, ci sono dei cereali fortificati, oppure potete affidarle alla natura tranquillamente, con dei cereali semi-integrali, perché l'integrale è meglio inserirlo dopo i due anni, le nomi passati, decorticati, vegetali e foglia verde e frutta secca. Per esaltare l'assorbimento del ferro è sempre consigliata la vitamina C, che potete trovare in tantissime sfaccettature, dalla foglia verde al succo di limone a riba e senso un maico. Vediamo un po'. Un concetto fondamentale è anche quello delle calorie, sappiamo che il bambino è in crescita, abbiamo due fasi, possiamo dire, da uno a dieci anni e le dieci anni fino comunque al termine dell'adolescenza. Possiamo pensare appunto che nella prima fase un piano calorico può andare dalle 800 calorie circa alle 2.600, pensate più anche di un adulto, normo peso. Nella fase successiva andiamo circa dalle 1.600 alle 3.200, che è tantissimo, ma non dovete preoccuparvi, perché ha bisogno appunto di famosi mattoncini, semplificiamo il concetto, per crescere. e i cibi concentrati, come poi c'è anche la frutta secca, è l'ideale. Vi dicevo appunto che scuso anche delle fibre di fare attenzione, di non fare come facciamo noi grandi e magari di consumare le verdure prima del pasto principale. Hanno uno stomaco ridotto, quindi non riescono comunque ad inserire successivamente i vari nutrienti. e la fibra ha la funzione, che è una funzione molto positiva per l'adulto di ridurre l'assorbimento non è così esterolico, allora comunque l'alimentazione non fosse vegan, per il bambino rischia di non far assorbire tutti quanti i vari nutrienti, quindi bisogna cercare di stare sul raffinato, sembra una neresire, però funziona così, un semi integrale, ok? Per i legumi, eccetera, passarli, frullarli, decorticarli, questo è almeno per i primi due anni, poiché può avere un'alimentazione molto similare a quella che è anche l'adulto. Bene. Poi, oltre a parlare comunque di bambini, ci siamo anche noi, giusto? Abbiamo bisogno anche noi di risposte e quindi ho inserito una parte che mi piace tantissimo, quella di sfatare e fare simiti. Sono le classiche domande che ci vengono anche poste dai nostri amici quando vedono che abbiamo cambiato tipologia di alimentazione. Questa qua vi ho detletto un po' una specie di che caratta divertente. Immaginate il paziente X, ok? Vi immagino io che mi viene in studio pieno di domande, pieno di dubbi e comincia a pompare l'atmia. Allora, la prima domanda è questa. Dottor, possiamo dire un po' di dire che mi diceva qua. Dottor, maledetta vegana, è sicura? È sicura? Allora, non ci si inventa niente, caro mio paziente, certo che è sicura, lo vediamo assieme, questo è quello che dice l'ADA dell'America D'Athetic Association, non è Giorgio Fabro, è qualcuno di molto più importante, che dice testuali e parole le leggiamo assieme. È posizione al progetto dell'ADA che le diete vegetariane correttamente pianificate, ecco perché vi dicevo, informateli bene oppure affidateli a qualcuno che ne sa un po' più di voi, comprese le diete totalmente vegetariane o vegane, sono salutari. Tutto chiaro? Sono salutari, adeguate dal punto di vista nutrizionale, perché tanti pensano sempre alle carenze, togli la carne, togli il pesce, le uoche, gli articini, sicuramente ti mancano vitamina, i sanguinierali, eccetera, non è assolutamente vera, se varia e bilanciata, adeguate dal punto di vista nutrizionale e possono conferire benefici per la salute nella prevenzione e nel trattamento di alcune patologie pensate, quindi può aiutare anche il livello di prevenzione. Le diete vegetariane ben pianificate sono appropriate per individui in tutti gli stati del ciclo vitale, quindi gravidanza tranquillamente si può fare, allattamento tranquillamente si può fare, prima e seconda infanzia è il tema del nostro convegno di più di sani e belli, adolescenza, quando cresceranno, quando diventeranno adulti e perché no, anche atleti sportivi, perché ovviamente anche lo sportivo che cambia l'alimentazione e che non si trova più con i suoi vecchi mattuncini comincia a preoccuparsi a pure di cadere massa magra, a pure di non avere prestazioni, invece vi posso assicurare che vedremo tra poco che ci sono tantissimi comunque atleti anche di fama mondiale che hanno ottime prestazioni e hanno un'ottima fisicità, poi mi direte a voi insomma se è sufficiente. E questa qua? Quante volte le sentiamo? Andiamo a cena, non si mangia e tutti diventano nutrizionisti rapidamente, giusto? Vado subito, se uno fuma no problem, se uno beve no problem, se uno fa delle altre cose no problem, però se mangi solo la dura diventa un grosso problema e tutti si preoccupano per te, giusto? Abbiamo tante persone che ci vogliono bene, giusto? Ok, e le proteine mi hanno sempre detto che senza carne e pesce c'è da in conto delle carenze, allora rispondiamo insomma a questo nostro paziente preoccupato, tranquillo, ricorda un po' la pubblicità della telefona di qualche anno fa e lui girata le proteine sono tutti intorno a noi, non ci sono problemi, ok? Noi vediamo assieme un preconcetto da sfatare con le presunte carenze proteiche, non c'è assolutamente, tutti gli aminoacidi essenziali sono nove, si trovano tranquillamente che nel mondo vegetale, noi dobbiamo inventarli perché non li produciamo, una volta che abbiamo questi macroncini il corpo sull'attività epatica e altre attività enzimatiche crea tutti gli altri senza nessun problema, ok? L'importante è però che la dieta sia varia, completa e bilanciata, anche se vegan, perché dico sempre anche patatine e coca cola può essere vegan, però vi posso assicurare che non è varia, bilanciata, chiunque assuma nell'arco delle giornate cereali e legumi, ok? Vediamo che i cereali sono limitati per un aminoacido, lo leggete lì, non vedo che stavo a fare troppa scienza se no diventa pesante, i legumi sono limitati in un altro aminoacido e se mi si compensano, io vi posso dire che non è nemmeno necessario farlo nello stesso piatto, perché tanti sono gomi di se a pranzo non mangio cereali o legume vado a rischio di avere delle carenze, l'importante è consumare all'interno della giornata o comunque ecco delle 36 ore tranquillamente, abbiamo un problema minacidico di riserva, quindi no problem, no stress e sempre positività, c'è un effetto di compensazione, il nostro corpo ovviamente ha pensato a tutto, a questo e a tanto altro. E poi ci sono limiti già completi che si trovano in altri pseudo cereali come la quinoa, la quinoa, la quinoa, la quinoa, la quinoa, l'anno scorso è stato il cereale mondiale, insomma ecco, quindi ha un'importanza sempre più, diciamo così, pesante e si trova tranquillamente nei grossi biologici ma si trova anche nel supermercato, poi stegliete voi insomma, ecco, dovete andare a investire i vostri soldi, le sue derivate che sono completi, la canapa e anche i derivati sta uscendo molto bene, è molto completa, è un ottimo rapporto anche tra omega 6 e omega 3 che è introvabile tipo l'olio di canapa, la gaspirolina che è utilizzata molto anche come integratore nel bene sportivo, ha il 70% di proteine quindi senza problemi e dopo ci sono dei prodotti bio che vi chiamo con i combinati, può essere il muscolo di grano, i prodotti emogli dell'azienda ProDimest o quant'altro, insomma, anche non sto qua tra pubblicità ma sono cose che già conoscete, quindi la soluzione c'è e quando mi dicono ma costa troppo e tutto il resto io vi posso assicurare dopo se qualcuno vuole dare anche la propria testimonianza alla fine del mese togliendo delle cose mettendo queste a livello di pagina non spendo di più anzi si spende più o meno lo stesso se non di meno prendendo comunque anche benzina benzina di qualità quindi perché no? mi dico vediamo avanti come la simpatia del paziente che è preoccupatissimo perché è uno sportivo sportivo fra due volte la settimana a palestra poi si sente un atleta sportivo che è buona prestazione mi fa tutto l'altro giorno mi stavo lavando ero in doccia sono uscito ho iniziato a parlare un po' e tutti i musicisti davanti dietro di fianco dell'altra parte che mi coinvolgevano in discussioni importanti mi hanno detto palestra dove vado parlano solo di uova e di carne sono tutti amanti di Rocky vedete presente il film si svegliava la mattina in frigo uova cuori salta su sulla scala in centro a filalefie gli dicono che mangia insalata quindi un po' depresso anche perché si sente dire che mangi insalata e basta perché chiedere anche di visto soltanto comere il bibolo giusto? vabbè dopo vedremo se ti dimostra però mangiamo solo erba sono tutti secchi quindi tu non hai possibilità se mangi soltanto insalata tu non riuscirai a nemmeno come Massamaio secondo me senza proteine animali non si ottiene alcun risultato questo è l'amico insomma che lo sta stimolando a ricambiare stili di vita allora cosa gli rispondi? io amo rispondere con i fatti quindi ho la mia cartella con delle foto comunque ecco di atleti in nature li vedete per i tonici li vedrete mi posso assicurare che dopo tanti anni di allenamento ci si può arrivare non sono bombati non sono estremi non è mistero un'idea che vedete in questi giorni che stanno facendo appunto in Las Vegas questo è uno è l'intero americano hanno noto l'acadistenia cioè l'esercizio corpo libero da qualche anno che è vegan e circa i dieci anni che si allena e ha una bella tonicità quindi secondo me Massa Magra non manca che dite voi bello tonico non è enorme però secondo me è una bellissima fisicità insomma ecco a trovarne neanche ma no andiamo avanti ho detto ma uno non ci crede andiamo nel Guinness World Record che magari può essere c'è sto signore qua che è vegetalmente da 2005 quindi mangiare va da tanto tempo quindi è da tanto tempo che risiede delle carenze di una rete proteine animali ed è vegan da 2011 ha fatto questo piccolo record lo vedete qua 550 kg quasi una macchina per 10 metri sopra le spalle così per essere un po' più tonico per dimostrare insomma ecco che si può arrivare a questi risultati lo vedete che bello buono è un grande sforzo però ce sta facendo pensate al poggere dell'insalazza sicuramente sarà molto biologica perché per dare risultati di questo tipo qua senza proteine animali perché bisogna dopo anche convincere nonostante i risultati i pazienti andiamo un po' più una recente sochi di bioquatratici questo è il campione anche di braccio di ferro campione olimpico di Boba 2 Boba 4 se conoscete il Boba non è uno sport non è il ping pong abbiamo qualcosa che fisicamente su un'alco richiede anche una certa fisicità in certa prestazione venga del 2010 noi questi 4 anni che abbiamo insalata andiamo che abbiamo sesso ok vediamo Megan medaglia d'argento l'olipide di Bernalissante di Sofi 2014 partenaggio di figura scopera tenga del 2008 ottimi risultati anche per insomma quando arrivare a questi livelli ovviamente bisogna avere tanto allenamento tanta fisicità e la giusta nutrizione credo non sono insalata vedete penso altro amico del team Clean Machine americano che seguo ovviamente anche su Facebook ora in un gruppo si chiama Megan Bodybuilder in Fitness noi ne abbiamo fondato un altro che è quello italiano che potete trovare tranquillamente su internet noi ci sono tanti anche atleti italiani che si stanno veramente distinguendo a livello anche internazionale per la propria fisicità insomma ma questo qua mi ha insalato da un po' di tempo addirittura lui comunque è nato vegetariano con più sovra cultura personale ed è vegano del 98 per andare a qualche integratore come prendono tutti quanti però mi posso assicurare che è un semplice integratore minimare delle proteine sempre di soia qualcosa post workout perché sono persone che hanno un consumo calorico di 6-7000 calorie al giorno per riuscire a fare anche magari due o tre volte al giorno allenamento perché è il loro lavoro quindi hanno bisogno di tantissimi nutrienti per stomaco è quello che è quindi cercano ovviamente anche di cibi concentrati che sono da diluire magari con del latte di soia oppure con con l'acqua e questi qua sono alcuni indirizzi web utili se avete facebook o quant'altro potete andare ma basta metterlo anche su google vengo a bodybuilding adesso esce il mondo è proprio cambiato tutto quanto in giro di un paio d'anni da questa parte come il nostro gruppo giuterico fondato di da cara a carla non c'è da niente adesso siamo in 3.000 spaventoso quindi è proprio il momento ideale e il ferro dico sempre parli con Fabro in meglio di me sono un po' dati delle indicazioni sul ferro va tranquillo poi abbiamo poi l'ARN che è la soluzione raccomandata ho messo alcuni dati dell'adolescente che è molto simile anche a quello dell'adulto metto in gravidanza che però è giusto integrare ma lo consiglio a qualsiasi ginecologo va alla ginecologa appunto per le riserve che dicevamo prima proposettine semplici l'imitazione vegan contiene ferro pressoché non è quindi è una difficoltà di essere assorbito quindi non è evitare certe sostanze che inibiscono l'assorbimento del ferro ma questo è un consiglio che io do anche agli univori quindi non esagerare con tisane con sostanze nervine perché a livello gastro intestinale in alcuni soggetti riducono l'assorbimento di tanti minerali ok e cercare quello che va a facilitare l'assorbimento che accadrà la mitica vitamina C che si trova ovunque quindi anche qualche voce di succo di limone sui degumi sulle letture da un po' di gusto evitate l'ecetto evitate mai l'utilizzo dell'olio in grande quantità e avete tutto quello che vi serve tranquillamente ho pazienti che avevano problemi anche di anemia moglubina bassa ferro basso trasferite ferite in sideremia che hanno risolto cambiando alimentazione quindi per chi è convinto che porti un problema ho avuto pazienti che invece hanno risolto il problema che non riuscivano a risolvere quando erano unico quindi magia e mistero qua vedete appunto il contenuto anche di ferro in alcuni alimenti la carne di cavallo che ricordate è sempre stata consigliata per la quantità di ferro eccetera però vediamo che dei legumi come di fagioli e porlotti ne contengono più del doppio a parità di peso quindi sta a noi scegliere se mangiare il cavallino oppure mangiare appunto quello che è un legume è sempre una nostra scelta l'importante vi dico avere le giuste informazioni e renderci conto che abbiamo comunque un'opzione il primo del cacao amare o polvere fate attenzione a non mangiare troppo la cioccolata e il calcio anche qui vediamo un po' i livelli di essenzione raccomandata i livelli di milligrammi per giorno io inserisco soltanto qui i fattori che possono condizionare la perdita di calcio non parlerò di patologie però leggendo assieme a me capirete che forse una problematica come l'osteoporosi bisogna andare magari non so ripeterla ripensarla giusto? do degli assist però non mi addentro se non restiamo qua fino a domani quindi i dieti iperproteiche animali credono in acidosi il corpo per bilanciare il pH è un suo meccanismo di difesa estrema deve andare a tamponare il pH quindi in cerca delle sostanze che siano alcaline degli ioni positivi il primo che potrebbe entra è quello che per noi il calcio dalle ossa che si combina appunto con l'ione acido si normalizzano si nutrizionano la vicenda e viene discreto attraverso comunque la funzione del cranale quindi con le urine la famosa calcioria quindi esagerare con le proteine esagerare anche con le latticine eccetera non è che se le soluzioni sono una problematica di questo tipo caffini in eccesso sodio in eccesso portano a carità comunque di calcio e di potetività fisica quindi la cosa secondo me da ragionare è questa più che pensare come metterlo di calcio bisogna pensare come non perderlo ci siamo capiti giusto? quindi fate attenzione riflettete sempre insomma ecco perché quello che avete inerbiato può decidere di mandarvi su una strada oppure mandarvi su un'altra strada stiamo avanti qua vedete appunto il contenuto anche di calcio in cibi comunque anche green possono essere i cereali poi abbiamo comunque i semi di sesamo abbiamo il tofu abbiamo tantissimo comunque possibilità di quello nutrizionale per consumare le quantità di calcio che ci servono direttore degli studi dicono che uno se è bene bisogna anche di meno calcio perché comunque la carità è inferiore rispetto comunque all'analogo unicolo quindi ci si può giocare anche qui in maniera tranquilla senza alcuna preoccupazione l'importante scusate se insisto dieta varia completa bilanciata ok che ci sia un po' di tutto nell'ambito della meta del vegan andiamo avanti la resta della spesa anche questo è un problema secondo voi non crede giusto scuoveremo un po' che il discorso delle vitamine sono dei nutrienti che non apportano energia ma sono fondamentali fanno parte di di vita enzimatica e tutto quello che comunque crea stabilità anche a livello del corpo per qualcuna in queste diciamo così è salita la ribalta un po' di più insomma e avremo modo adesso di parlare un po' perché ci tengo tardi anche altri concetti un po' più specifici in modo da tranquillizzare se qualcuno magari ha anche delle problematiche abbiamo due tipologie di vitamine quelli trusolubili che sono la maggior parte però sono anche termolabili dei fruttolabili quindi sono molto molto delicata poi la vitamina è proprio B e anche la vitamina comunque C e vengono perse nell'acqua di cottura spesso volentieri quindi fa la differenza anche come cucinate è meglio cucinare al vapore piuttosto che stare a strassare molto la verdura perché resta la verdura però quello che è importante della verdura lo trovate a mare nell'acqua che dopo andate a buttare quindi se vedete dell'acqua che dopo la cottura anche la verdura è un po' colorata lì ci sono dei principi attivi riciclatele magari per fare un minestrone o qualcosa altro non potete via niente perché se le perdete potete compensare il giorno dopo insomma ecco e parliamo quelli di corso rubili che hanno un'attività comunque più legata ai classi la D la E e la K non sto qua a far scienza perché voglio concentrarmi su questa se ne sente parlare giusta voi che dite è salita molto secondo me in eccesso anche alla ribalta il discorso delle B12 questo non significa che non sia indispensabile perché dal punto di vista scientifico è di fondamentale importanza però non deve essere la paura non deve essere quello che frena perché ho avuto quelli pazienti che non volevano cambiare stile di vita perché il dottor erano più le B12 e dopo come faccio non voglio integrare senza sapere però questa idea raccontatelo un po' e ho detto guarda che tutti i derivati animali che tu vai a consumare avendo avuto comunque ecco anche integrazione avendo avuto comunque non so dei foraggi un po' particolari antibiotici quindi non li producono più di loro perché comunque è illuminante da Frank e di su la B12 guarda te la vanno integrare quindi tu indirettamente hai sempre consumato l'integratore e sembra Martec se le scena dopo mi guarda mi fa me è sicuro si vengono integrate anche loro nei foraggi qual è la possibilità invece di integrare lei direttamente quindi ha anche la possibilità di scegliere la non si sa da dove arriva questa B12 qua se se la prende long life so quello che vuoi la marca che preferisci la somministrazione che preferisci sai che è riformazione comunque laterica che quella naturale sarebbe vero riuscire a trovarla ancora spontaneamente attorno a noi bisogna mangiare la terra però se uno mangia la terra rischia di verità problematiche gastrointestinali non so se concordate con me quindi bisogna trovare le giuste via le giuste via di mezzo tanti dicono perché è una vitamina comunque legata alla duplicazione cellulare DNA io dico che comunque se uno ogni tanti mesi si fa delle analisi quindi se inizia a integrarla perché ha avuto una carenza perché non è per tutti perché ci sono comunque pazienti che per 2, 3, 7, 10, 15 anni hanno quello di dipito dicendo che è costante perché hanno delle riserve epatiche anche quindi dipende sai cosa da quanto l'abbiamo assorbita da quanto l'abbiamo trattenuta anche da univoli avere casi di ipervitaminosi è abbastanza raro insomma vedere che uno non si sta a controllare che si spara le compresse l'integrazione oppure non so troppe gocce di cobalavito quello che è è difficile insomma incontrare in un range di questo tipo potrebbe esserci comunque ma per tutte quante le vitamine perché anche le altre tendono anche a cristallizzare quindi l'ipervitaminosi in generale è una cosa ovviamente da evitare dico sempre anche l'acqua evita però se ne bevi troppo succede troppo ti affoghi mi risulta come in tutto deve essere preso nelle giuste quantità l'importante è monitorarci e fare ogni tanto dico almeno una volta all'anno se possibile delle analisi del sangue vedrete appunto dopo legato le abitudici fare anche un omicistein fare anche i diflurati in modo da avere 4 completo quasi completo insomma ecco tutto lì comunque dal punto di vista biologico e logico potrebbe esserci comunque ecco un fattore di due tipi però non vedo perché andare in ipervitaminosi ecco tutto lì quindi vediamo appunto che le abitudici possono essere ricavate dai vegetali il problema è che la abitudici che non è che si trova direttamente da fonti vegetali ci sono dei prodotti che trovate in fondo abitudici non so alghe anche delle speruline eccetera però sono forme non attive sono quelle che spesso volentieri sono birichine e quando le prendete vanno a modificare o a normalizzare i valori ematici per quello che consiglio sempre fate anche le omicisteine fate anche i forati per capire se per la medicina c'è una carenza o il risultato è stato mascherato perché le forme inattive vanno a mascherare però non è che il numeretto che vedete quando fate gli esami del sangue sia da letta ok bisogna stare attenti per quello che bisogna fare il TRIX in modo che il nutrizionista e il medico che vi segue ardi al quadro completo fondamentale ok quindi è una vitamina che può risultare carente in alcune diete meno nell'altro uovo vegetariano perché si consumano anche i latticini di uova che sono prodotti in cui c'è un po' di deposito di B12 può essere una carenza comunque anche nell'ambito micro anche di sopra di 50 anni parlavo anche con la mia docente con la mia tutora di master la dottoressa Baroni che conosce insomma anche per famo anche per i propri libri abbiamo parlato lei è un geriatra ha tantissimi pazienti anche con Alzheimer con problematiche a livello di sistema nervoso e ha deciso di fare appunto dei test di B12 e fatalità molti di questi pazienti fanno il valore di B12 bassissima la domanda è da quanto tempo e sono univori quindi ok non dobbiamo preoccuparci più di tanto l'importante è fare determinati controlli fare l'analisi del sangue essere comunque sempre aggiornati sulla propria situazione non lasciare nulla al caso che non è appunto il caso scusate il gioco di parole la fonte naturale di B12 sono alcuni microrganismi ok parlavano appunto degli analoghi inattivi l'abbiamo già detto quindi non mi ripeto abbiamo diverse forme di B12 quelle attive sono due principalmente le metilco-balamine quelle che vengono utilizzate dal nostro organismo la B12 ha un proenzima quindi anche la funzione sono ecco di andare a potenziare attivare funzioni enzimatiche fondamentali in quali processi biologici metaforismo di acidi grassi delle proteine dei carboidrati perché ci si è in sinergia anche con le vitamine del gruppo B che sono quelle che sono eccitamente un dessorbire nutrienti a livello energetico ok poi anche la funzione di fare vedere l'omocistina che se è troppo elevata ecco perché dell'analisi poi dura problematica cardiovascolare la fa diventare metionina quindi l'amminoacido fondamentale potrà essere fondamentale per il nostro organismo è fondamentale anche per le strutture niediniche del sistema nervoso ecco per il discorso dell'anzheimer perché è molto molto fondamentale a livello di struttura appunto del sistema nervoso le abitudici quindi vedete ci si deve preoccupare perché è fondamentale però bastano piccole cose pochie le accorgimenti e potete vivere tranquillamente come grande servire la possibilità non proprio se c'è bisogno si integra se non ha forte carenza si integra un po' di più quando viene a normalizzare si riduce l'integrazione insomma ecco tutto lì l'importante è sapere come siamo messi il famoso punto zero ok quindi se andate da uno specialista e volete intraprendere questo cammino o volete appunto fare dei controlli andate a quella analisi del sangue almeno sapete da dove partite e lo aiutate volendo sì volendo sì il discorso del B12C si riscontra un po' di più comunque anche nell'adulto l'importante è fare in gravidanza se un gestante decide di fare comunque una gestazione a Becala e di integrare la B12C perché purtroppo il bambino non vada a sfarpire la B12C della mamma i suoi depositi ma ha bisogno di B12C in circolo e quindi è importante integrarla a quello che dico sempre quindi il ferro e il B12C che venga assunto anche in gravidanza poi ovviamente qualche di attra di riferimento come può essere il Binevi o qualcun altro insomma ecco a livello amatico ci sono appunto degli isami più specifici da fare anche per i del bambino però non ci sono problemi al riguardo tranquillamente insomma ecco ok Bini andiamo avanti un pochettino per l'assorbimento della B12C fondamentale dell'acidità gastrica integrità della mucosa dello stomaco dove viene prodotto il fattore intrinseco quel fattore che si regla ai B12C le permette il suo assorbimento a livello intestinale quindi anche le persone che magari utilizzano non so antiacidi hanno delle resezioni intestinali morbo di clon quando utilizzo dei pochini prodotti contro il diabete tipo la metformina devono stare attenti mi riporto anche gli univoli in questo caso qua bisogna cercare insomma di capire un po' come uno è messo quindi arriviamo alla parte pratica vi dicevo le analisi da fare l'emocromo e così si può anche andare a valutare la grandezza di globuli rossi famoso MCB di come Venezia o che vedete se è troppo grande se è troppo piccolo se è all'interno del rigideale perché se ci sono problemi di B12C quindi non c'è duplicazione cellulare ma andiamo in conto perché è una forma di anemia particolare mega aeroblastica cioè gli eritrocibi lo vedo se li abbiamo tendono ad allargarsi in dimensioni quindi anche l'emocromo che di conseguenza ha meno globuli rossi del terreno di radiazione oltre alle MCB e poi l'acido folico e l'omocistina che ci scondi sinergie quindi se tutto è pronto no problem se c'è qualche carenza di uno o dell'altro si può tranquillamente sistemare il tutto però se non avete l'analisi del sangue chi viene davanti ha difficoltà comunque ecco a stabilizzare che andando lungo lungo andare ci potrebbe essere comunque anche dei problemi si trova anche in bevande vegetali e cereali fruttificati di utilizzativa quindi c'è chi utilizzando solo questi alimenti non ha nessun problema c'è invece chi ha delle carenze che deve appunto integrarla con cosa ci sono appunto varie soluzioni le trovate in farmacia oppure le potete comprare anche online o il nostro sistema o comunque di vendita c'è la log life che una volta era da 2.000 i programmi hanno una volta a settimana adesso c'è che sono da 50 che giornaliera se uno non ha grossi problemi di carenze basta mezzo la comprensa le farmacie vengono anche i dessa parola comprensa quindi infatti mettano mezza pastilla al giorno e non avete nessun problema se andate online le prendete da Inghilterra ci sono quelle della solga da 2.500 basta una volta alla settimana oppure il cobaleride che ho utilizzato anche in ambito pediatrico l'utilizzo anch'io che sono un bambino comodo in goce e lo trovate in farmacia ci sono tantissime possibilità se andate sul sito di scienza vegetaliana punto it che è una associazione in cui faccio parte per esigenza appunto da dottoressa trovate tutte le informazioni e tantissimi altri prodotti quindi visto che esiste internet o direttamente o tramite un nipote qualcuno che ha la possibilità di andare online e avete tutte quante le informazioni quello che ho detto anch'io poi ho cercato di risumere un po' ma non sto qua a fare la biologia molecolare perché devo dare appunto degli assist delle informazioni da portare a casa la vitamina D è scarsa in tutti i tipi di dieta ok in quella vegana un po' di più noi cerchiamo magari integratori che non siano integratori di ammite di derivazione animale come la classica vitamina D che viene presa dalla norina ok quindi utilizza un derivato animale vedete in fondo una serie di prodotti di due oppure di tre di tre però a un animale arriva dei licheni quindi sono nuove anche le formolazioni che vi permettono appunto di avere un'integrazione qualora ce ne fosse bisogno anche di vitamina D come far a sapere l'analisi del sangue ok la vitamina D è prescritta comunque anche in ambito libero tranquillamente se ci sono delle problematiche la vostra scelta è l'era non volete derivare animale questi sono i prodotti che potete acquistare al posto delle classiche soluzioni che magari vengono proposte da me o di famiglia insomma tutto lì l'esposizione a sole è importantissima però concordo anche con quello che ha detto spesso le terapinelli purtroppo a livello tomosferico a livello comunque ecco anche di assodimento di raggio tra più di più come una volta quindi forse integrare un po' di più è necessario perché la natura che siamo riusciti insomma a rovinare abbastanza non ci dà più insomma la performance di una volta purtroppo gli omega 3 non è indispensabile consumare pesciolini ma trovate tranquillamente quello che vi serve anche nel mondo vegetale andiamo subito a un discorso pratico i semi di vino che potete prendere tranquillamente basta macinarli vedete anche le quantità le ho in sé sotto oppure prendere anche l'olio di semi di vino quello che io utilizzo quotidianamente ma non solo una bruschettina una focaccina fatta in casa anche con della farina integrale senza far nomi potrebbe essere interessante provare anche questa molto buona mettete un po' di semi di vino lo fate sia la mattina che la sera ho definito probabilmente sto sporando scusa e avete comunque tutto quello che vi serve sta uscendo molto bene vi dicevo prima anche l'olio di cannaba i derivati della cannaba stanno entrando veramente insomma anche in commercio in maniera sempre più importante sono sempre più disponibili e questo comunque è un bene anche per noi che andiamo comunque ad acquistare e cerchiamo ho un ultimo rapporto omega 6 omega 3 quindi già molto più per bilanciato di suo perché dico questo perché nella nostra nutrizione anche l'elega abbiamo molti omega 6 che però portano spesso volentieri una formazione di sostanze infiamatorie quindi anche in persone che maledie vengono con psoriasi triteromatorie maledie autoimmuni dico sempre scagliamo poi l'omega 6 e cerchiamo di aumentare l'omega 3 i velocissimi di lino che tanti antideria non utilizzano comunque non fanno caso a questa problematica gli cambia veramente ecco lo stile di vita non è un farmaco non dà una soluzione definitiva però dica molto perché sappiamo insomma ecco che una grande percentuale del problema lo possiamo risolvere direttamente nel piatto ecco che siamo quasi alle fine il paziente è quasi convinto però sono stremmato lo vedete a furia di dare assist 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 mi fa quindi in sintesi qua mi casco un po' tutto ho detto ho parlato per niente mi fa sì passo quel pomodoro e prendo ce ne io no giusto Enrico no solo questa roba qua eh c'è tanto altro non solo bisogna cercare di spaziare quando uno pensa ai cereali pensa solo alla pasta io dico voglio che sono tutti ci cereali sono distanti simpatici tutti quanti almeno non so 7-8 proviamo a cambiare vedete quelli rossi sono quelli senza glutine quindi se qualcuno ha una glutine sensitivity o una cerechia comunque accertata qua tranquillamente insomma potete trovare insieme nella forma originale fanno anche delle pastiche ho visto pasta di riso esiste la pasta di chinoa anche spaziale quindi la l'industria l'industria insomma è quella la tecnologia si permette di avere delle cose che fino a che anno fanno impensabili e aiutano anche più persone comunque da vicinarsi a questo mondo i legumi meglio secchi da mettere in ammollo ok evitiamo quelli da lata che dal punto di vista nutrizionale non è che siano proprio il massimo potete cucinare specchia per i fagioli perché possono dare dei problemi di fermentazione di grassa con l'aigra o l'alloro quando voi li cucinate con l'aigra o l'alloro è un senrico più pratico del sottoscritto si dice giusto abbiamo provato anche noi che il problema secondario è di tutto i fagioli che identiche soia e ci si cerchi a fare dei piselli sono legumi quando uno pensa i legumi ma deve essere soltanto alla pasta con i visi come dicono ancora in un'altra parte oppure soltanto con i fagioli sono tanti oppure anche i derivati più esotici tofu tempecker seitan oppure altri prodotti va bene anche il piatto unico cereali più legumi insomma non è che sia indispensabile l'ho detto prima però si può tranquillamente fare ed è anche molto gustoso io mi servisco speso anche nei miei piatti questi qua sono alcuni piatti sono delle foto insomma fatti in casa dai miei compagni Ilaria qui davanti farei un applauso anche perché oltre a sopportarmi è un'ottima cuoca tutti i sconsufficini infatti in casa e anche figlia le prezze tantissimo insomma ecco sempre con il limone eccetera sono le cittine semplici le fine può utilizzare non solo dei prodotti già pronti come per essere un bulgarino quello che è per un punto è prenderlo scaldarlo magari evitiamolo se possibile i microonde mi raccomando evitiamolo un po' se possibile e mangiarli così a un punto invece è decorarli mangiarli in maniera diversa insomma può fare anche delle colpettine fatte in casa mischiamare di cereali anche di legumi colpettine di tofu o quello che fare insomma tantissime cose se avete del tempo e amate cuocinare fatelo e fatelo anche per i vostri bimbi che è bellissimo anche voi ci impedete questa qua non posso assicurare non le fate gli inserano non ce l'abbiamo oppure se è stato veramente grave che è mascherato la sacca vegana ok se avete bisogno di informazioni quant'altro io sono teore che faccio le foto e mangio la parte pratica lascio a lei che resterà con noi quindi le ricette è una pagina Facebook si chiama Peggy Rainbow dove appunto carica tutto e spiega come fare i piatti questo compiettino crudista ci ho provato è difficile ma ci sto provando sono sincera ok pizza fatta in casa anche questa qua sembra più stelle normali posso assicurare che non c'è nessun cadavere all'interno della pizza ma sono comunque di fruste quella di setan di farro di rubino ecco che è uno dei top come legume utilizzati insomma anche nell'ambito sportivo mentre se vi interessa sapere il top come performance libero di cereale oltre a chi non ha grano sale ce l'hanno nato che hanno tutto il farro e l'avena sono al top come proteine quindi gli sportivi li preferiscono molto anche a colazione con i cereali questi qua sono altri pettini come velocemente se no ho tutti ancora gli altri colori scusatemi questi qua sono gli locali di Peg vegetariani e vegani a Verona e provincia e l'ultimo è stato aperto qualche tempo fa a San Bonifaccio vi ho messo i nomi perché trovate le informazioni su Google numeri di telefono e tutto il resto non voglio fare pubblicità a nessuno non ho preso nessuna roletis però sono qua per dare appunto degli spunti pratici perché abbiamo bisogno di punti di riferimento siamo fortunatissimi a Verona soprattutto con in città perché i primi sono quasi tutti in città ok il primo e ultimo è Ezebio sentirete gusto sono gli ex titolari che adesso sono alla lanterna quindi sono uniti e noi fiumi di San Bonifaccio questi qua sono alcuni siti ma voi ne sapete sicuramente più di me anche le donne che sono qua che cucinano giusto che hanno un'esperienza più pratica del sottoscritto però vi ho messo qualcuno anche Facebook che può essere utile ogni tanto avete dei gruppi interessanti oltre a nostro gruppo giusto è quello più interessante di tutti i gruppi di Bissan questa va la mia pagina quindi se volete contattarmi le ho trovate tranquillamente anche su internet o basta mettere anche su Google nutrizionista vegan esco io quindi avete il modo di contattarmi di mandarmi email per qualsiasi prova c'è un consiglio per se posso anche voler in distanza comunque cerco di aiutare nel mio piccolo insomma questo è importante ok non è periodo di pasqua però vale tutto l'anno ok amiamo e non mangiamo come diceva anche Rico cerchiamo giusto di aggiustare il tiro della nostra visione non guardiamo soltanto gli animali di classe A che non si sa perché sono stati classificati così e guardiamoli un po' tutti perché sono tutti quanti di classe A tutti quanti adesso l'ultima cosettina un'altra video simpatico mi sono chiesto parliamo di bambini parliamo di frascunta parliamo di cibo spazzatura di sovrappeso di obesità di cattivi di abitudini alimentari io amo molto anche gli animali mi sono detto ma se anche nella savana ci fossero questi problemi qua che può capitare perché può capitare come sarebbero gli animaletti questo mamma può essere anche carino per i bambini che questa qua potrà essere la situazione che dite? speriamo no gustata di odore poco simpatico è un po' di tripoltà che carino ta 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 smiglianciatissimo poca massa magra e non ce l'ha fatta però si salvano si guardano come sui cesso il gattone sta sognando però un po' si stiracchia un po' si è un po' sedentario e la porta poco liquilibrio attenzione un po' no è comodo anche nell'imbalzo qui abbiamo una situazione tipica della savana la ricerca di cibo però sono entrambi difficoltà c'è la pratica il predatore dove vedete qua c'è un valenti per fare di notare lo sforzo si toccano è rimasto è rimasto tutti e due poverini e per concludere abbraccio e per concludere abbraccio la secola della zebra zebra pesa vedete anche qua sono lì tranquilli senza nessun problema arriva 30 giorni che parola di difficoltà si spaventano lui è lì che gira e gli è andata male vedete tutto quanto grazie mille grazie a tutti grazie a tutti